esordio amaro per la fiericcione nel campionato di eccellenza la sconfitta in casa contro alfonsine è decisa da una rete avvenuta su calcio di rigore al termine di un match tutto sommato equilibrato la partita al quarto riccardo innocenti spizza di testa per filippi che dopo una serie di dribbling alza sopra la traversa al nono si affaccia la fiericcione in avanti oggi in completo arancionero il tiro cross di sparaventi è parato a terra da palermo un minuto più tardi scambio nella metà campo ospite leggero tocco di scarponi e inchisi la manda di poco alta sul montante al quattordicesimo filippi cade a terra nell'area di casa per alex piccoli dimestre e tutto regolare ammonisce per simulazione l'attaccante dell'alfonsine trentaduesimo minuto il tiro cross di andrea tamagnini è sporcato da durbano facile la parata dell'estremo ospite al trentatresimo occasione alfonsine filippi si destreggia al limite lancia per innocenti riccardo che spedisce la sfera sull'incrocio dei pali al trentasettesimo rete annullata dai riccionesi tamagnini andrea batte una punizione dalla tre quarti anastasi colpisce di testa ma per la terna arbitrale è in fuorigioco nulla da fare per i padroni di casa al quarantunesimo l'occasione che cambia la partita de luigi strattone in aria filippi lanciato a rete per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna rigore ed espulsione per il difensore di lorenzi si presenta dal dischetto filippi che spiazza passaniti è una a zero il secondo tempo si apre con la fia che tenta subito nascossa borghini supera due avversari e calcia ma la conclusione è poco fortunata e si spegne di poco sul fondo al sesto altro penalty assegnato dall'arbitro questa volta a favore dei padroni di casa piccoli di mestre vede un tocco tra tamagnini piero e rossi scarponi dal dischetto però non vede la porta e spare in curva al venticinquesimo ancora fiericcione la punizione di andrea tamagnini però è di facile presa per palermo al trentaquattresimo savini lancia sul filo dell'offside filippi che spreca tutto spedendo la sfera ampiamente a lato trentasettesimo minuto altra buona occasione per gli ospiti asanai sulla fascia destra crossa in mezzo sponda di innocenti per malo che stoppa e tira la palla è fermata dal palo nel recupero la fiericcione tenta il tutto per tutto e va vicino al gol al quarantottesimo inchisi in mezzo per anastasi che suggerisce di testa per maggioli che da pochi passi non riesce a prendere lo specchio della porta finisce con la mano in bocca per i d'alfonsine batte la fiericcione al nicoletti per 1 a 0 la truppa di lorenzi domenica prossima dovranno vedersela contro il tropical coreano oggi vittoroso in trasferta sul campo del cotignola